E questo è il tuo regalo di compleanno, amore mio. Si chiama la freccia della verità. E sai a cosa serve? A segnalare tutte le bugie che dici. Cioè? Ogni volta che tu dici una bugia, lui si accenderà. Ad esempio, quanto hai presa l'interrogazione di matematica stamattina? Ho preso sette. Oh, lo vedi? Hai detto una bugia. Scusate un attimo, è il commercialista. No, cioè, voglio dire, è mia sorella. Vabbè, è il meccanico. Mica sarà quella che ti gira sempre intorno? Ma no! Ancora che la frequenti? Assolutamente no! Cioè, mentre io sto tutto il giorno al lavoro, senza mai vedere nessuno a fare un mazzo così, tu ancora ti vedi con quella? Vedi, tua madre, che non ha mai peli sulla lingua... Posso dire una cosa? E tu fai silenzio, non lo vedi che sto parlando con tuo padre? Ma no, non lo vedi che stia da la lingua...